E allora siamo qua perché voglio affrontare un tema veramente serio che possa farci capire meglio come siamo sistemati in Italia, come siamo formati, come si è formato questo popolo italiano e come pensa questo popolo italiano. Nei miei discorsi ci sarà sempre la parolina Italia perché io penso di essere uno dei pochi italiani sopravvissuti in questa nazione e perciò devo portare avanti questo mio sentimento perché poi l'Italia non è altro che un sentimento che uno ha, che nasce da tante cose, soprattutto dalla cultura che uno riesce ad arraffare, a raggiungere durante l'arco soprattutto di quegli anni importanti che vanno dagli inizi dell'elementare fino grossomodo al diploma. Poi c'è chi continua, chi non continua e c'è anche chi si ferma prima del diploma, cioè alla fine delle scuole medie. E allora tutto quello che noi mettiamo dentro la mente, tutte queste esperienze più che altro intellettive ci portano ad essere in un determinato modo. Ma non solo questo, c'è anche la famiglia. Non ci sono i nostri maestri che iniziano a educarci alla vita sociale, alla vita sia personale e anche sociale con tante altre persone e soprattutto a rispettare quelle persone che stanno con noi e a rispettare anche tanti principi che piano piano, crescendo, noi dobbiamo assimilare e appunto rispettare. Ciò avviene in Italia del Sud, perché io divido l'Italia del Nord e l'Italia del Sud. Nell'Italia del Sud purtroppo avviene relativamente questo, ossia nelle famiglie più evolute, nelle famiglie più istruite, che hanno la possibilità di dare ai figli una maggiore serenità proprio culturale, intellettuale per poterle apprendere, assimilare e poi andare avanti nella vita e arrivare all'università, laurearsi e a loro volta poi prendere posti prestigiosi. Ripeto, questa percentuale è ancora molto bassa al Sud, ultimamente si è allontanata sempre di più riportando alla luce un mondo che sembrava quasi scomparso, quello del pensare all'antica, quello di pensare proprio come pensavano i nostri nonni, come pensavano i nostri nonni. Certo, non si fanno le certe cose, non si dicono certe cose, ma l'andarsi è quello. E piano piano, quando uno incomincia ad allentare e a non rispettare più i principi, quelli che dovrebbero essere primari in uno stato moderno, lentamente si scivola verso il remoto, non il remoto nel senso di computer, verso il passato remoto, verso la vita di una volta appunto dei nostri avi. E questa è la fine che ha fatto ormai l'Italia, possiamo dire, perché una volta, ricordo, ero piccolino e atteggiarsi o parlare come i nostri nonni era sinonimo di vergogna, cioè uno si vergognava, non si parlava quasi mai in dialetto o almeno tante famiglie cosiddette di un certo livello non parlavano mai in dialetto, rispettavano certi principi, educavano i figli in un determinato modo. Io lo so perché sono nato in un paese che si chiama Capodorlando, in provincia di Messina, dove c'era questo principio fondamentale che le famiglie di una certa classe, di un certo prestigio nel paese rispettavano. E grazie a questo modo di fare, pur io non venendo da una famiglia primaria, colta, istruita e così via, come volete chiamarla, riusci a imparare questi principi attraverso i miei compagnetti, attraverso l'andare in casa di questi compagnetti a vedere che c'era un modo di vivere completamente diverso. Forse, spinto dalla mia curiosità interna, cercavo di capire perché loro si comportavano in un altro modo, perché le mamme parlavano in un altro modo, perché parlavano quasi sempre in italiano e io invece in casa mia mi dovevo sorbire parenti, genitori con quel linguaggio e mia nonna, giustamente quella giustificata, perché purtroppo, lo dico apertamente, mia nonna non andò neanche a scuola, era un alfabeta totale e allora lei era giustificata, ma io non riuscivo a capire perché mia madre, pur andando a scuola, anche se non si è laureata, parlava sempre in dialetto, mio padre diceva che ce le scanse libera, lui la cultura non gliele fotteva una mazza e allora io vedevo queste difficoltà e andando in altre famiglie io incominciavo ad assimilare un certo modo di vivere e di interpretare proprio i rapporti umani. Lentamente in me scattò, dato che io avevo una passione indescrivibile per la lettura, per i giornaletti e infatti iniziai grazie a delle persone che stavano vicino a casa mia, delle persone anziane, delle signore che ora non ci sono più ovviamente, che amavano leggere e mi insegnavano lentamente, mi facevano ripetere delle cose piano piano, infatti io arrivai a scuola che sapevo leggere, a quattro anni quasi capivo tutto e incominciavo a divorare i giornaletti e a non finire. Bene, perciò piano piano io sono arrivato con un passo avanti, come quando si parte in una gara di automobilismo e uno parte due o tre macchine avanti, è sempre un vantaggio, oltre a partire in prima fila uno parte ancora avanti e io partivo veramente avanti rispetto ai miei compagnetti e volevo sempre leggere, il sussidiario mi ricordo lo guardavo in seconda elementare avanti e indietro lo divoravo prima che finisse l'anno, io prima che finiva l'anno sapevo tutto ciò che la maestra avrebbe affrontato durante appunto l'arco dell'anno e questo creava dei problemi proprio alla maestra perché io parlavo sempre, volevo partecipare, volevo essere interrogato, per non dire poi andando ancora più avanti cosa succedeva. In questo bordello come sapete verso otto anni ho deciso di non parlare più il dialetto perché capivo che era una cosa vergognosa, non perché mi avevano trasmesso questa vergogna, perché io capivo attraverso dei miei concetti intenti, razionalizzando questo piccolo problema che alla fine per me era un grande problema perché io vedevo che bisognava vergognarsi nel parlare in quel modo perché quel modo di parlare era stato sepolto attraverso guerre, attraverso tutto quello che si è fatto, attraverso tutti i morti che sono andati a finire sottoterra attraverso un principio, rispettando un principio dell'Italia e con l'Italia l'italiano. L'italiano nostro purtroppo, la lingua italiana non viene come in altre nazioni dal popolo ma purtroppo viene dalla letteratura, questo è anche vero, perciò bisogna fare questo cammino che ho fatto io. Io di famiglia, ripeto, ero una famiglia come tante altre, molto modesta, anzi terra terra, poi grazie al contatto con famiglie che erano colte, con i figli di queste famiglie, io vedevo un altro mondo e piano piano mi sono affezionato subito. Eppure ho visto anche tante altre cose durante il periodo di primo apprendimento, ho visto osterie dove qualche parente andava a ubriagarsi o a bere vino, ho visto altre, però non mi attiravano, eppure molte volte i ragazzi vengono attratte più da queste schifezze perché io all'osteria, al bere, il bar, tutte queste cose le ho viste sempre come schifezze, ancora oggi le vedo come schifezze, tant'è che io difficilmente entro in un bar, mettiamo stamattina, siamo entrati in un bar, c'era anche mia moglie e mio figlio, sono entrati loro e ho detto guarda io non mi dà fastidio entrare in un bar, perché il bar io lo considero la cosa di... è una cosa mia purtroppo, è proprio personale al cento per cento, non dico che non è giusto andare al bar, però è andare al bar come da ragazzino, le osterie, vinerie, tutti questi posti, trattorie che si usava tanto e mio padre, mettiamo, quando andava nel suo paese di origine che era Brola, aveva tantissimi amici, mi portava dietro e io ero costretto a stare dietro a queste persone, loro si divertivano, si rivedevano dopo tanti anni e così via, queste cose a me non mi attiravano, non mi attraevano, non mi piacevano. Quando invece entravo nelle famiglie e vedevo il papà avvocato che parlava in un determinato modo, la mamma che era professoressa e si distingueva nel modo di parlare, di dire le cose, di richiamare il figlio, di dialogare proprio con il figlio, che io notavo che era completamente diverso da quello che c'era fra me e mia madre, perché mia madre mi parlava, poi lei non era molto loquace dopo tutto, era una di quelle che una volta insieme a un mio zio, suo fratello, e qualcuno di qua, più di uno di qua, li volevo mettere insieme per fare la riunione del silenzio, cioè queste persone, se stavano insieme, dato che non sono abituata a parlare, che non sono abituata a essere loquace, sono convinto che in un'ora di riunione nessuno tenebbe un cazzo, e io avevo tutti, e ho detto voglio fare questo esperimento e non ci sono riuscito, avrei messo mia madre, mio zio, un mio cognato, un paio di miei cognate qua, qualche nipote, qualche altro mio zio, diciamo, ecco, li avrei messo tutti insieme, era la sala del silenzio, li mettevo in là, loro non avrebbero detto un cazzo, né più né meno, perciò avevo la sfortuna di avere anche una mamma che non era loquace, e quando io le parlavo, vi ricordo, fino agli ultimi giorni, lei capiva perfettamente quello che le dicevo, come sto parlando con voi, e lei qualche volta mi rispondeva in dialetto, una volta le dissi, mamma, ma quando mi dai questa soddisfazione di parlare una volta in italiano, mi ha detto, guarda, tra noi lascia perdere, lascia perdere, quando tu per caso ti farai fidanzato e la ragazza non sarà di qua, esempio, diceva lei, non ti preoccupare che ti farò fare una figura eccessa, eccezionale, non ti preoccupare, ti faccio vedere io, anche perché lei capiva tutto di quello che le dicevo, mi ha detto, beh, sarà, e quel giorno è arrivato, quando portai la mia fidanzata, attuale moglie, lei, insegnante, napoletana con la sua lingua, e l'italiano lo conosce abbastanza bene perché lo insegna, non so se mi spiego, è arrivata mia madre, io ho detto questa è la volta buona, infatti è stata la volta buona che dopo un mese mia attuale moglie, allora fidanzata, ha imparato il siciliano, perché mia madre le insegnava il siciliano, parlava il siciliano, dici, la mia fidanzata, nonna, perché noi le suocere le chiamiamo nonne, nonna, che mi volete dire, questo, questo, che volete dire, in un mese, mia moglie, dato che loro parlavano spesso, perché mia moglie ha visto, ho avuto con mia madre un rapporto quasi da madre a figlia, perché mia madre non accettò quasi nessuna fidanzata, devo essere sincero, questa era una delle cose, pace all'anima sua, certo, qualche cosa è stata mandata a lei, da parte di qualche mia ex, ma lei di quelle ragazze che io portai, o le feci vedere così per sbaglio, non le garbavano, quando invece vide mia moglie, io ero atterrito, ho detto chissà, questa è voluta venire qua a casa, la porto qua, se non va ce ne andiamo subito e ce ne ritorniamo a Napoli, anche perché erano i primi giorni di fidanzamento, quando mia madre vide la mia attuale moglie, perse la testa, come se avesse visto una figlia che non vedeva da anni, la abbracciò, la portò in casa, la fece e la trattò sempre da figlia, e mia moglie onestamente devo dire che ha ricambiato quasi come una figlia, e lei lo diceva, tua madre mi vuole un bene veramente sincero, e fu così, e talmente poi si addentrarono in questa, diciamo, corrispondenza di sensi, diciamo, che mia madre insegnò a mia moglie il dialetto, e questo fu quello che mi diceva, ha realizzato quello che mi diceva, se un giorno ti farai fidanzato con qualcuno che non è di qua, ti do una bella risposta, ti faccio vedere come parlerò l'italiano, e se hai visto, mia moglie in un mese imparò, si può dire, il sicuro, e ancora oggi se sente qualche parola, dice, la nonna diceva così, e se la ricorda. Allora dove voglio portarvi con questo discorso? Voglio portarvi a farvi vedere come una persona cresce, come una persona lentamente si forma, cosa entra nella propria mente, attraverso soprattutto la cultura del senso di scuola, e attraverso la famiglia. Io ho fatto lo stesso cammino, ma un cammino un po' personalizzato, sì è vero c'è stata la cultura, non è che io andavo a Oxford a scuola, vi ripeto che i primi anni di scuola, i miei primi, secondi e terzi elementari, sono stati fatti in una casetta in mezzo ai limoni, vicino alla ferrovia, dalle parti di, possiamo dire, dove c'è via Cordovena, più avanti, più avanti, andando per Palermo, e dove c'è il primo piccolo quadrivio che porta sotto il ponte, c'è quel ponte, non so come si chiama, quel ponte Conforto, come sempre il ponte Conforto, a metà strada vicino alla ferrovia c'era una casetta, che noi partivamo dal ponte Conforto, attraversevamo quel ponte, andavamo in una viuzza, chiamiamola viuzza, e a fianco alla ferrovia, piano piano, alla destra avevamo tutti gli alberi di limoni, e alla sinistra c'era la ferrovia, cioè nel senso i binari dove passava il treno, e poi un 200 metri più avanti, sempre in mezzo a questi limoni, nasceva questa casetta, che era come una casetta in Canadà, che possiamo dire, e perciò non è che io ebbi grosse strutture davanti, non ero né a Torino, né a Milano, né a Roma, né a Svizzera, ero in quella casettina dove per tre anni ho fatto prima, seconda e terza, però avevo una brava, anzi brava, perché erano marito e moglie, di solito veniva la moglie, lei ogni tanto diceva che il giorno dopo sarebbe rimasta a letto perché avrebbe avuto la febbre, noi a bocca aperta ci credevamo perché eravamo dei ragazzini, e il giorno dopo veniva il maestro che era il marito, e il maestro con noi aveva un rapporto idilliaco, perché non ci faceva fare quasi mai un cazzo di scuola, ci portava fuori, ci faceva giocare, allora quando la maestra diceva, molto severa questa maestra, onestamente, che il giorno dopo sarebbe venuto il marito, noi eravamo contentissimi, come se avevamo vinto la lotteria, ecco, e questa è una formazione, un bel momento tu incominci ad arrivare, continuando con la scuola, e avendo preso un principio serio, che è quello di vedere soltanto il mondo italiano, attraverso la cultura, attraverso la scuola, attraverso le amicizie, attraverso i viaggi, e allora c'è una formazione, una formazione che tu ti formi da italiano, giustamente qualcuno ora a questo punto può dire, ma sei diventato ricco durante questo cammino? No, non sono diventato, allora giustamente la stessa persona, pur non rispondendo, penserà non sei un cazzo, perché in Italia se non si diventa ricchi, non si è nessuno. Questa è una, una, delle decisioni che la mente prende, o che viene attratta da questa decisione, perché la realtà che vive purtroppo non riesce ad affrontarla, non avete capito un cazzo sicuramente, cioè io ho affrontato la realtà in un determinato modo, cercando di formarmi e diventare italiano, perché non è perché sono nato in Italia, e segnatamente in Sicilia, io ero italiano, io non ero italiano, cioè si diventa piano piano italiano, ma questo cammino che vi sto descrivendo, non lo fa quasi nessuno, perciò si resta, come nelle sabbie mobile, ferme, e non si va né avanti né indietro, e uno resta, chi orlandino, chi santacatese, chi trapanese, chi di tropea, chi di sapri, chi vicino Napoli, Napoletà, si resta, e questo è stato, perché non c'è stato un cammino, dici, ma non dovrebbe essere la scuola, sì, dovrebbe essere la scuola a formare queste persone, ma la scuola non ha formato un cazzo, perché la scuola è fallita da decenni, non da ora, da decenni, non esiste più la scuola, è un postaggio così, o ci vai o non ci vai, non cambia proprio un cazzo, questo è il ragionamento, perciò la formazione verso quel cambiamento per arrivare ad essere italiano è durissimo, cioè questo cammino è durissimo, e io l'ho affrontato veramente quasi tutto, poi sono iniziati i viaggi, oltre alla scuola, oltre alle letture, ci sono stati i viaggi, i viaggi soprattutto in Toscana, in Lombardia, ma soprattutto nella Siena, che mi consigliava il mio maestro del manuale d'italiano, mi ricordo, dice ragazzi, per poter sentire le persone parlare bene l'italiano, andate a Siena, restate un pochino in piazza del campo, ascoltate queste serese, e vi faccio vedere che ascolterete, da un punto di vista anche fonologico, il vero italiano. E io allora ho cercato di seguire anche questo percorso, cammino, che è stato il mio cammino, grossomodo qualcosa ha fatto, poi ho scoperto anche il Manzoni, e tanti altri autori italiani, che dici, ma tu ti confronti al Manzoni, ma non se ne parla nemmeno, ma non esiste proprio, perché ognuno di noi siamo un mondo a parte, ognuno di noi siamo un mondo a parte, anche se il Manzoni è diventato quello che è diventato, nessuno potrà essere come il Manzoni, potrà essere superiore al Manzoni, perché magari si è diversi, e si può essere anche più bravi, ma ognuno di noi è un mondo a parte, però vedo che anche il Manzoni ha fatto certi cammini, per poter arrivare a una lingua italiana, perché nel suo modo di pensare c'era questo, di creare qualcosa di grande, che potesse restare nell'essenza dell'Italia. non l'ha fatto attraverso le guerre, non ha fatto guerre, non è stato uno che pensava che attraverso certi atteggiamenti poteva crearsi un'Italia forte, ma l'ha fatto attraverso la cultura, creando una lingua, o dando l'input a una lingua, che poi tanti maestri sicuri, tanti scrittori sicuri, hanno portato veramente, dove osano le acule, e da qua nasce l'italiano, però è una formazione continua, che non bisogna dimenticare, si parte proprio dalla letteratura, dalla cultura e dalla letteratura, per poter diventare italiani. Se non si attraversa questo cammino, se non si fa questo cammino, si resta nella palude, si resta come nelle sabbie mobili, e tutti rimangono, chi ciociari o laziali o romani, chi napoletani, chi sicuri, e questo è quello che è avvenuto. Perciò la scuola ha avuto un compito, come dire, negativo, fortissimo nella non formazione di questi italiani. Oggi noi ci troviamo in queste sabbie mobili, chi è sicuro, chi è proprio di quartiera addirittura, e da questo blocco, da queste sabbie mobili, lentamente, la malavita, o la cosiddetta mafia, si è ampliata. Perché un bel momento uno si accorge che non ha l'aiuto di uno Stato. non c'è uno Stato, perché gli italiani, non formandosi, non creeranno uno Stato. Dice, sì, ma li mandiamo al Parlamento, ma quelle sono persone che sono state estratte dalle sabbie mobili, ma che di italiano non hanno un cazzo. Quello che noi viviamo attualmente. Perciò, se di italiano non hanno un cazzo, non faranno niente per gli italiani, né per il suolo italiano. questo è il motivo. Ecco perché se noi vediamo la formazione culturale di quelli che ci sono là, ammettendo che esista questa formazione, che la formazione culturale non avviene attraverso soltanto lo studio, ma avviene attraverso le esperienze, i viaggi, i confronti, tante altre cose, le ricerche, cose che io ho fatto diciamo, spendendo i migliori anni della mia vita e ne sono orgoglioso di essere così. Sempre la solita domanda, ma sei diventato ricco? No. Allora quello dice sei un povero stupido, ci hai rimesso pure. Sì, ci ho rimesso, però ho una fortuna dentro di me di sentirmi benissimo, di sentirmi uno dei pochi italiani superstiti, cioè qua sopravvissuti, perché quello che è successo in Italia è stato proprio come una bomba atomica. Quando arriva una bomba atomica, l'abbiamo visto in Giappone, ne rimangono pochi e quei pochi che rimangono, rimangono squilibrati, distrutti e io sono un sopravvissuto intero di quest'Italia, di questi italiani. Però vi ho spiegato per come ci si arriva il cammino che è arduo, duro, durissimo, ripeto, non fatto solo di cultura classica, andando a scuola, leggendo i libri e così via o imparando la grammatica italiana, ma soprattutto fatto di viaggi, fatto di confronti, fatto di ricerche, fatto di tante altre cose che formano lentamente un essere in italiano. In un italiano. italiano. Oggi se voi veniste qua, lo dico ai miei amici di Capodorlando, di Sant'Agata Militello, di Brollo, di quelli che stanno a Nassu, che stanno nelle zone limitrofe, se voi veniste qua per la prima volta rimarreste scioccati, scioccati a dire poco, perché non c'è una persona che parla in italiano. se non andate a contattare un avvocato, un sindaco, in qualche modo, un professore e così via, ma dove sono questi dizzi? Non si vedono mai. Cioè, il popolino che c'è qua, noi abbiamo 150.000 persone e quasi, voglio dire, 130.000 sono tutti come stranieri. Parlano una lingua che non è neanche napoletano. Cioè, questa è la realtà. Come si è arrivati a questo punto? perché queste persone sono rimaste nelle sabbie mobile dal punto di vista di formazione. Sono rimaste queste persone nelle sabbie mobile e si sono praticamente lentamente dentro di loro è entrata la vecchia cultura antichissima, terra terra dei loro nonni, dei nostri nonni e oggi c'è gente che si diverte pure a scrivere per quello che sentivano. Perché non è che c'è in Sicilia, in Calabria, a Napoli, in tutti i pochi, non è che si studiano queste vecchie lingue che oggi sono dialetti. Scrivono quello che sentivano o ancora sentono in famiglia e si divertono e si divertono pure perché oltre non lo sanno fare, non è che questi sanno scrivere un romanzo e poi ogni tanto come faceva Pirandello si mette a scrivere in dialetto. Non è che questi qua sono scrittori, questi sono ignoranti che oltre dato che Codesto Social ci porta a scrivere oltre a queste cose non sanno scrivere. Allora nel dubbio perché dici poi si mettono a ridere mi sfottano qualcuno mi corregge io scrivo in dialetto e in dialetto non mi può correggere nessuno perché non esistono regole. Questo è quello che c'è attualmente. Questo è quello che c'è attualmente in Italia. Alla domanda ma quanti italiani siamo in Italia? La risposta è pochissimi. Pochissimi perché oltre ad essere italiani nel senso di nascere sul suolo italiano di parlare la lingua italiana di dimostrare di vivere da italiani ci deve essere dentro di noi un sentimento forte ma non solo per l'Italia ma Italia vuol dire anche cittadini italiani e entra anche in gioco l'umanità cose che noi in Italia non abbiamo non vediamo perché non c'è il sentimento quelli là non hanno nessun sentimento quelli che attualmente stanno facendo il presidente della Repubblica sono persone che sono state messe là portate là da qualcuno che aveva i soldini loro non penso che siano per come parlano per come si comportano delle persone ricche perché per arrivare ad essere un senatore oppure un onorevole un deputato ci vogliono i soldini campagna elettorale amicizie feste festicciuole e tutte altre cose ci vogliono i soldini che non hanno i soldi allora quelli chi li ha messi là li hanno sponsorizzati delle organizzazioni con la speranza che queste organizzazioni non siano malavitosi ma se noi parliamo di banchiere di banche di finanziere di questi qua queste sono malavitosi per come si sono comportate ultimamente nel mondo per quello che hanno combinato e queste persone essendo state portate là da questi tizi una volta là devono fare quadrare i conti cioè perché chi li ha portati là dice loro come si devono comportare ora se c'era attualmente un po' di sentimento per l'Italia e per gli italiani per la situazione che noi stiamo vivendo attualmente ieri 468 mi sembra morti o 86 o 68 non mi ricordo più di 450 morti per quello che stiamo vivendo le tragedie soprattutto economiche oltre che dei decessi e dei contagi che abbiamo il Presidente della Repubblica si sarebbe dovuto fare alla prima cioè nuova votazione nella prima mezz'ora subito immediatamente invece guardate là che c'era perché quelli dell'Italia e degli italiani non gliene fotte loro una mazza non gliene fotte loro una mazza e allora tutto questo modo di vivere senza un sentimento italiano porta inevitabilmente ricordatelo qua segnalato con questo passaggio porta inevitabilmente a pensare ai propri cazzi e nel momento in cui si pensa ai propri cazzi cosa che Antonio Adamo non ha mai fatto o raramente si incomincia a pensare da mafiosi ecco una delle sfaccettature della mafia la mafia non è soltanto andare a fare la rapina la mafia non è soltanto andare a chiedere il pizzo la mafia non è andare a fare una come dire a far saltare il garage di un tizio oppure l'attività di un gruppo di persone non è solo questa la mafia la mafia e tante altre cose la mafia è un modo anche di pensare perché se non si pensa in un determinato modo non si può essere mafioso non è che uno magari fa la vita da fabbro non so da barbiere ci sono tanti mestieri possiamo dire buoni che ti fanno vivere in maniera onesta e un bel momento uno dice io non ce la faccio non guadagno tanto ora mi metto a fare il mafioso ma come cazzo ti metto a fare il mafioso se non prima ti formi da mafioso è come dire io sono italiano ma se non penso da italiano se non mi formo e divento un italiano come cazzo posso essere un italiano facciamo sempre il confronto così vi entra nella mente mettiamo un barbiere che un bel momento non guadagna un granché e dici beh ora mi metto in un'organizzazione mafiosa e faccio il mafioso ma come cazzo lo fa il mafioso questo barbiere se non si forma mentalmente ad essere mafioso è la stessa cosa per essere italiani quanti italiani ci sono in Italia pochissimi perché non siamo stati formati e allora quando prendiamo quella matita e entriamo nella cabina ci dovrebbero dare un colpo in testa a tutti a tutti perché noi non siamo o non meritiamo quella matita in mano e neanche quel foglio davanti perché noi non dovremmo votare che cazzo dobbiamo votare se durante l'arco dell'anno non parliamo mai di un problema sociale non parliamo mai di aggiustare una strada non parliamo mai di sapere perché hanno messo quei dossi a capicazzo in tutti i posti che scassano le macchine non possiamo capire perché quel semaforo non funziona non riusciamo a sapere perché i vigili non si vedono mai in giro forse a Capodorlando qualche vigile si vede qua non si vede un cazzo chi viene qua meno male che siamo tutti di qua siamo tra di noi ma se arriva un borzanino se arriva un milanese si è arrivato dopo due minuti dopo due uno di Grosseto la viabilità a Grosseto è quasi Svizzera ve lo dico io che ci vado spesso ultimamente è Svizzera arrivasse qua una persona di Grosseto si è arrivato dopo due minuti immediatamente giro la macchina prende l'autostrada e si è arrivato verso Roma e poi a Grosseto ve lo dico perché è impossibile tutte queste cose qua i cittadini non si richiedono perché non sono stati formati come italiani se venisse uno della Svizzera italiana se ne scapperebbe dopo un minuto ma forse anche a Bologna il guaio è che se ne scapperebbe non dovrebbe arrivare fino a Napoli se ne scapperebbe già per come si comportano a Bologna se ne ritornerebbe indietro si loro vengono ogni tanto in estate se diverti se ne scappano ma non è che vengono qua avete capito quella è la cosa più incredibile e che ci mortifica noi italiani che gli italiani dobbiamo dire oggi oggi che sono venuti bene sono stati formati sono quelli della Svizzera italiana che con l'Italia non hanno niente a che fare perché loro si sentono Svizzeri loro io li chiamo Svizzeri infatti mi ricordo scendevo da Torino ho fatto tanti viaggi in un periodo della mia vita proprio più di 40 con l'aereo poi non l'ho preso più non per motivi non mi interessa proprio non me ne frega e allora mi ricordo c'erano due ragazze stupende due hostess e stavano camminando noi eravamo scendati però scendevano da un un aereo svizzero ovviamente e allora noi a fianco ho detto scusate ma voi siete Svizzere no dice lei noi siamo Svizzere no signorina lei è Svizzera e c'era da ridere allora questi Svizzeri sono quelli che sono i veri italiani quelli che sono stati veramente formati ed è vergognoso perché là parliamo di un'altra nazione ascoltate vedete un telegiornale Svizzero è un'app che tutti i giorni almeno la sera a fine serata vedo l'ultimo telegiornale non ne hanno pochi attenzione a parte il linguaggio che è perfetto da un punto di vista della sintassi ma la serietà del linguaggio e là quando una signorina dice noi della confederazione cioè lei parla a nome di una nazione non come le nostre sguaiate che abbiamo qua che sono lontano gli interessa soltanto farsi la cosa la permanente il trucco il coso il rossetto ma guardate là quelle sguaiate che abbiamo noi perché a loro non ne frega niente di quello che anche con quell'atteggiamento ridono e dicono che c'è stata una strage oggi mettiamo invece ascoltate vedete un telegiornale svizzero ovviamente svizzero e italiani innanzitutto il telegiornale è in piedi là non si siede nessuno anche se viene un ospite che può essere ma là il ministro non se ne vedono ministri e questi questi fasulli che abbiamo noi in Italia tutti in piedi si sta in piedi il telegiornale si dice in piedi e quando c'è una notizia che interessa la gravità o qualcosa della Svizzera solo diventano serie e diventano parte integrante si vede che quella persona io mi ricordo una famosa notizia che ho detto non è possibile si erano tempo fa accorti che il 12-13% degli svizzeri non avevano raggiunto o non stavano raggiungendo in quel periodo la media nazionale dei guadagni cioè del tenore di vita avete capito e la signorina che annunciava quel coso era triste cioè era triste perché diceva al più presto dobbiamo non devono come dice qua quelle là quelle sfrontate che abbiamo noi no dobbiamo rimettere in ordine questo livello per poter dare a questo 12% di famiglie la possibilità di avere un tenore di vita come tutti gli svizzeri avete capito là ne fanno un caso nazionale là c'è un sentimento nazionale eppure là ci sono minimo quattro quattro zone con lingue e culture diverse che stanno insieme ma rendete conto e noi che abbiamo che siamo dovremmo essere più che siamo i figli di Dante io mi vado a sentire l'altra sera noi dici quando studiamo la lingua la nostra lingua la lingua di Dante loro si permettono di dire giustamente perché studiano l'italiano studiano altre lingue tedesco francese rumencio non mi ricordo ecco ma la lingua di Dante ma ha sentito questo discorso da una donna svizzera ti sento un po' così mi sono sentito un po' sconvolto ho detto ma che vuole dire questo eppure questo studia la lingua di Dante tutto qua io ora vi saluto perché stanno suonando qua suonano sempre a risentirci grazie a tutti